Ciao, tu sei la nuova testimonia Triumph, come ti va, come ti senti nella parte? Sono molto orgogliosa, è un'immagine bellissima e spero farò ancora di più. Ti sei già vista in pubblicità? Sì, due giorni fa era l'ultima volta. So che presenterai anche Castro Caro, quindi insomma per te c'è anche un futuro televisivo, dopo hai fatto già altre cose anche con Mammucari. Sì, faccio altre cose anche in settembre ma non si potrà dire. E in pubblicità hai altre presenti in mente e farai altre cose? Sì, certo. L'Isola dei Famosi o qualche reality ti attira? L'Isola dei Famosi e vediamo che cosa mi propongono.